Le tre giornate di corso sono state molto importanti, sono state anche piuttosto impegnative, però sono state molto efficaci perché Francesco ha saputo dare una visione integrata di tutte le esigenze che ruotano intorno a un e-commerce. Il corso lo consiglierei soprattutto alle aziende perché ritengo che questo corso dia una visione integrata di tutte le necessità partendo dall'idea iniziale al budget, alla pianificazione delle attività successive.